In un momento in un mese, 300 confie cose, è un exo di una storia di video, ora si vince. Buongiorno, è il vostro capitano che vi parla, la temperatura è di 28 gradi, stiamo parlando a 12.000 piedi, non siamo a 15.000 piedi, però non ce l'ho di numeri. Buongiorno, è il vostro capitano. Buongiorno, è il vostro capitano.